In quest'anno abbiamo conosciuto come è nata l'Unione Europea, grazie all'opera di gravi uomini come Robert Schumann, Alfredo Spinelli, come Alcide De Gasperi, come Jean Monet, che dopo l'esperienza terribile della Seconda Guerra Mondiale hanno lavorato perché noi avessimo un futuro di pace. Abbiamo poi imparato a conoscere le sue istituzioni, il Parlamento e il Consiglio Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea, la Corte di Giustizia Europea, la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea. Abbiamo poi scoperto i simboli dell'Unione Europea, la bandiera dell'Unione Europea e l'inno dell'Unione Europea, il motto dell'Unione Europea. Tutto questo ci ha entusiasmato e noi lo volevamo trasmettere come ambasciatori e come ambasciatrici del Consiglio regionale del Piemonte, ai ragazzi delle medie e delle elementari. Per quest'anno non è stato possibile, ma noi ci proveremo il prossimo anno. È troppo bello. Un saluto a tutti gli altri ambasciatori e ambasciatrici dal gruppo Europa del Collegio Don Bosco di Borgono. E non dimenticare l'Europa, se la conosci, la ami.